E' stato necessario l'intervento dei militari dell'Arma dei Carabinieri della Compagnia di Salerno a Sala Bagnano per interrompere una festa con musica ad altissimo volume in corso nella nottata appena trascorsa. Festa a cui stavano partecipando giovani della Salerno Bene, musica che si poteva ascoltare nitidamente in tutto il quartiere salernitano. Una festa privata che, come detto, è andata avanti fino a notte fonda, alle tre circa. Infatti sono arrivati sul posto i carabinieri l'intervento dopo le numerose segnalazioni al 112 da parte dei residenti del quartiere che non sono riusciti a riposare. Di qui quindi, come detto, l'intervento dei carabinieri che sono riusciti dopo alcuni minuti dal loro arrivo sul posto ad individuare la villa in cui si stava svolgendo la festa, chiedendo dunque di sospendere la diffusione della musica. Le forze dell'ordine hanno individuato alcuni dei partecipanti della festa che ha disturbato, come detto, i cittadini fino alle tre circa, inevitabili dunque le sanzioni per disturbo della quiete pubblica.